Ma il governo giallo-verde, quello a cui lei ha partecipato, era un governo del cambiamento come quello di Trump? Ma no, non facciamo nessun tipo di paragone, la prego. Era un governo che... No, l'ha detto il Presidente del Consiglio all'epoca. Guardi, se l'ha detto sinceramente non me lo ricordo, non lo ho scontato. Ahia, non si ricorda neanche questo, come la storia della Bada Bata. Si fondava la Pianti, si fondava... Anzi, mi dia una mano lei che fa pubblicare, io vorrei pubblicare tutto, la trascrizione integrale delle 45 basi della mia testimonianza. Poi col cavolo che ci sono, non ricordo. Comunque sono due... E non ha problemi di memoria, no? Perché oggi molti giornali titolano sulla sua memoria, no? Che avrebbe detto 48, 52, 27... Non mi ricordo, non so, non mi ricordo. Io la ringrazio di questa domanda, invito questi giornali a pubblicare integralmente la trascrizione della mia testimonianza. Poi dopo voglio vedere dove sono, non ricordo. Sono giornali di parte che hanno degli indirizzi diversi da fare pure informazione, semplice informazione basata sui fatti, però io penso che ci siano delle strade che io intraprenderò nelle prossime settimane perché sono informazioni non corrispondenti al vero. Grazie senatore Toninelli di essere stato con noi, grazie a Daniela Preziosi, grazie davvero. Daniela, noi ci vediamo tra pochissimo. E arriva Rosato, tra pochissimo.